Ha preso il via dalle 10 di questa mattina la votazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle sulla piattaforma russo per scegliere tra l'adesione o meno al governo di Mario Draghi. Il voto sarà possibile fino alle 18, i risultati si legge nel blog, saranno pubblicati dopo le 19. Il quesito recita, sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un superministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal Presidente incaricato Mario Draghi. Davide Casaleggio fa sapere che qualora vincesse il No ci sarà da stabilire se il voto del Movimento sarà negativo o di astensione. Alla domanda se teme una scissione Casaleggio ha risposto io spero che ci sia una grande partecipazione. Il Ministro degli Esteri Di Maio in un post su Facebook invita gli iscritti pentastellati a votare sì. Io mi fido di Giuseppe Conte perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rosso per la formazione del nuovo governo. Voterà sì anche il Presidente della Camera, Roberto Fico. Il leader Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia rimarca invece il suo no al governo Draghi. Non voteremo la fiducia, dall'opposizione non avremo preconcetti e se ci saranno provvedimenti che riteniamo giusti gli ipoteremo.